Un momento migliore, nel senso che stavamo gestendo la partita nel migliore dei modi, cercando di fare anche la gara, è arrivato un episodio a favore della Ternana, complimenti perché alla fine poi l'ha avuto l'episodio della Ternana perché ci ha creduto e noi abbiamo permesso un'ingenuità, spesso nel calcio quando fai quel pizzico di errore, anche se da volte magari non ti vieni punito, questa volta siamo stati puniti pesantemente perché secondo me la partita la Ternana l'ha interpretata anche abbastanza bene, il primo quarto d'ora, il primo tempo e il secondo tempo, poi del resto abbiamo giocato molto noi, non siamo stati bravi, dobbiamo migliorare la fase offensiva nella finalizzazione, nella riuscita del gioco, però del resto la partita l'abbiamo fatta, l'atteggiamento giusto, abbiamo creato i presupposti per portare a casa tre punti e l'episodio ci ha punito pesantemente.